Nuovo video dedicato alla storia del canale in cui parliamo del nono mese quindi cosa è successo negli ultimi 30 giorni in realtà ben poco perché non ho avuto del tempo da dedicare a questo canale infatti ho caricato solamente due nuovi video ma nonostante ciò gli iscritti sono passati da 467 a 546 quindi più 79 iscritti nell'ultimo mese e le visualizzazioni da 43072 a 53660 quindi altre 10.500 visualizzazioni durante questo mese nonostante non sia riuscito a caricare molti video se vorresti vedere dei video particolari dedicati a qualche argomento puoi lasciare un commento oppure iscriverti al canale per non perdere i prossimi video